La riserva naturale integrale di Macalube di Aragona è nata per tutelare un raro fenomeno geologico, analogo a quello vulcanico. Periodicamente la collinetta delle Macalube è sconvolta da eruzioni esplosive, con espulsioni di argilla, gas ed acqua scagliata a notevole altezza, dovuta alla pressione esercitata dai gas nel sottosuolo. Nell'area delle Macalube sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico. Le Macalube infatti costituiscono una rarissima testimonianza dei cosiddetti vulcanelli freddi, citati nella letteratura scientifica di tutti i viaggiatori stranieri venuti in Sicilia tra il 1700 e il 1800. Grazie a tutti! Grazie a tutti!